Benvenuti a questo video, dove vi guideremo nel viaggio per aumentare i vostri livelli di testosterone in modo naturale attraverso l'alimentazione. Cibo e testosterone. Aumenta i tuoi livelli in modo naturale. Il testosterone è l'ormone principale maschile, ma è importante per entrambi i sessi. Regola molte funzioni corporee, tre a cui la libido, la massa muscolare e la forza. Ma prima di andare avanti con questo video, voglio invitarti a lasciare un bel like. Questo ci aiuterà a crescere e a sviluppare il canale con altri video interessanti come questo. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi video. Un basso livello di testosterone può portare a vari problemi di salute. Per fortuna, ci sono modi naturali per aumentare il testosterone. Prima di tutto, dobbiamo fare attenzione alla nostra dieta. Ci sono cibi specifici che possono aiutare a stimolare la produzione di testosterone. È importante includere le proteine nella tua dieta. Le proteine aiutano a costruire i muscoli e a mantenere i livelli di testosterone alti. Il tonno è una grande fonte di vitamina D, che può aiutare a aumentare i livelli di testosterone. È anche ricco di proteine. L'uovo è un altro alimento che può aiutare. Il tuorlo è ricco di vitamina D e proteine. Un altro alimento da considerare sono le ostriche. Sono ricche di zinco, un minerale che può stimolare la produzione di testosterone. Le mandorle e altre noci sono un'ottima fonte di grassi sani, che possono aiutare a bilanciare i livelli di testosterone. Le verdure a foglia verde contengono vitamina K, che può aiutare a regolare la produzione di testosterone. Il miele contiene boron, un minerale che può aumentare i livelli di testosterone. Può essere aggiunto al tè o utilizzato in cucina. I fagioli sono un'ottima fonte di proteine e fibre, entrambi importanti per un sano livello di testosterone. La carne rossa, in particolare il manzo, è ricca di zinco e vitamina B, entrambi noti per il loro aiuto nella produzione di testosterone. Il pollo e il tacchino sono ricchi di proteine, che possono aiutare a mantenere i livelli di testosterone alti. La frutta e la verdura sono importanti per una dieta equilibrata e possono contribuire a mantenere i livelli di testosterone. Il cavolo e altre crucifere possono aiutare a ridurre gli estrogeni nel corpo, aumentando così i livelli di testosterone. L'aglio contiene allicina, che può aiutare a ridurre i livelli di cortisol, l'ormone dello stress che può abbassare i livelli di testosterone. Il cioccolato fondente è un'ottima fonte di antiossidanti e può aiutare a bilanciare i livelli di testosterone. Il latte è una buona fonte di vitamina D e calcio, entrambi importanti per i livelli di testosterone. Gli alimenti ricchi di vitamina C, come le arance, possono aiutare a ridurre i livelli di cortisolo, aiutando così a mantenere alti i livelli di testosterone. Ricordate, una dieta equilibrata e varia è la chiave per mantenere un sano livello di testosterone. Inoltre, è importante fare esercizio fisico regolarmente. L'esercizio può aiutare a stimolare la produzione di testosterone. In particolare, l'allenamento con i pesi può aumentare i livelli di testosterone. L'allenamento ad alta intensità intervallato, o height, è un altro modo efficace per stimolare la produzione di testosterone. Il sonno adeguato è un altro fattore fondamentale. Il testosterone viene prodotto durante il sonno, quindi assicurati di avere un sonno di qualità. Evita l'eccessivo consumo di alcol, che può ridurre i livelli di testosterone. Limita anche l'assunzione di zuccheri raffinati, che possono abbassare i livelli di testosterone. È importante ricordare che ogni corpo è diverso. Quello che funziona per una persona, potrebbe non funzionare per un'altra. curiosità culinarie nei borghi d'Italia. Se ancora non sei iscritto al canale, ti consigliamo di farlo ora ed attivare la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ma il consiglio più grande che voglio suggerirti è quello di visitare il nostro sito store. Lo trovi in descrizione. Dove trovi davvero ottime risorse selezionate per te in base a questo video che possono aiutarti per risolvere diverse situazioni importanti. Trovi il sito qui sotto in descrizione e questa settimana puoi accedere a sconti fino al 70%. Ora possiamo continuare con il video. Quindi, se non vedi i risultati che desideri, potrebbe essere utile consultare un dietologo o un medico. Aumentare i livelli di testosterone in modo naturale non è qualcosa che avviene dall'oggi al domani. Richiede tempo e impegno. Ma con l'alimentazione e lo stile di vita giusti, è possibile vedere dei cambiamenti positivi. Speriamo che queste informazioni vi siano state utili e vi aiutino a migliorare i vostri livelli di testosterone. Grazie per aver guardato questo video. Speriamo che vi sia stato utile. Voglio ricordarti di iscriverti a questo canale e di attivare la campanellina se ancora non l'hai fatto per ricevere le notifiche riguardanti i prossimi video in programmazione. Ricorda che la tua salute è la cosa più importante. Prenditi cura di te. Arrivederci e a presto!